ero al vicenza meglio di così non poteva andare no non poteva andare soprattutto dopo una partita come a vinovo dove siamo usciti vittoriosi con un grande risultato fare le prestazioni che abbiamo fatto oggi non è mai facile perché c'è sempre entusiasmo ancora mille oggi abbiamo dato ancora la prova che siamo un grande gruppo una grande squadra e penso che possiamo arrivare in fondo a giocarci fino alle final eight quest'anno perché abbiamo un potenziale molto forte perché pensi che i tuoi compagni come ad esempio Perez una settimana fa si allenava con te fargli vedere fargli fare l'esordio a San Siro penso sia emozionante ma sicuramente una vittoria sua e del gruppo perché senza gruppo sicuramente queste cose non si possono fare faccio i complimenti a Josh e questo fatto che è accaduto ci dà ancora più forza perché se è arrivato lui che è un buon giocatore molti noi molti di questa squadra ce la possono fare come lui quando un attaccante fa sempre gol è la cosa più importante diciamo per lui ma come ho detto prima questo è frutto della squadra ho fatto una buona prestazione oggi sono stato aiutato anche aiutato tanto dei miei compagni sono contento per la doppietta ma ormai questa partita è passata si pensa alla prossima che andiamo a Perugia in un campo molto ostico e naturalmente andrà per fare risultato per voi che a inizio stagione eravamo un gran gruppo ma non eravamo molto legati tra di noi poi con il passare del tempo i primi risultati non sono andati benissimo quindi c'è stata una riflessione del gruppo abbiamo deciso di prendere una strada tutti insieme e penso che stiamo prendendo la strada giusta le esultanze che arrivano tutti insieme penso sia una cosa bellissima perché vedere un tuo compagno che fa gol andare a esultare con lui penso sia bello sia per lui che vede un tuo compagno venire con te esultare naturalmente la gioia è di tutti penso deve essere condivisa da tutti gennaio dell'anno scorso e ho fatto dei bei sei mesi dove siamo anche riusciti a conquistare le final eight poi uscendo ai gironi ho scelto la fiorentina perché mi hanno sempre parlato di una grande società molto organizzata con dei grandi dirigenti e ho scelto la fiorentina perché in italia diciamo che di vivai sia penso una delle tre più importanti mi trovo benissimo qua e spero appunto di arrivare fino in prima squadra con la maglia viola naturalmente quando arrivo a casa i consigli sempre vanno dati poi lui ha giocato in serie a per molti anni quindi mi fa solo piacere sentire mio padre che mi aiuta a giocare meglio in campo lo ascolto non mi non è un padre che mi stressa con la fissa che io debba arrivare in serie a naturalmente mi dice con qualità ma sono con il sacrificio e lavoro se arriva a grandi risultati grazie